La pallavolo è uno sport che regala tante soddisfazioni al canavese. Per saperne di più abbiamo intervistato un allenatore che lo conosce molto bene. Con noi Alessandro Vallero, tecnico della pallavolo Montalto d'Ora, che ci racconta appunto come sta evolvendo la pallavolo in canavese, ma non solo. Chi sta sostituendo queste ragazze ha gran voglia di mettersi in mostra. E, come hai detto giustamente tu, le altre stanno dando, se prima andavamo a 100, sicuramente stiamo arrivando a 110-120. L'appuntamento è su WN2Web, martedì 20 febbraio 2024, a partire dalle ore 21.